A Isernia, condizioni meteo permettendo, il prossimo 31 di ottobre saranno consegnati lavori di riqualificazione del parco della stazione ferroviaria, un traguardo importante e lungamente atteso in città. Con tutte le cautele del caso legate alla particolarità del periodo, quell'infrastruttura si propone come un luogo di aggregazione e ritrovo per la pratica sportiva all'aperto, soprattutto dei giovani. Il parco stazione, che sta per essere consegnato alla fruizione della cittadinanza, sarà anche un nuovo polmone verde nel cuore di Isernia, in grado di accogliere e di ravvivare diversi quartieri. Sulla tempistica degli interventi, l'assessore a Rete Viaria e Verde Pubblico, Domenico Chiacchiari. Per quanto riguarda il parco stazione, i termini per la consegna di lavori sono previsti il 31 ottobre, tempo permettendo, i lavori stanno andando avanti e si lavora quasi interrottamente per cercare di arrivare alla consegna nella data prevista. Anche se sul parco noi abbiamo stanziato alcune somme che saranno previste sul nuovo bilancio, quindi si andrà a provare il bilancio a fine mese per poi concludere alcune cose che non erano previste da progetto, ad esempio degli infissi delle strutture che sono qui presenti sul palco. Ce la stiamo mettendo tutta, speriamo che tutto vada per il meglio. Da Chiacchiari anche il punto sui lavori in corso relativi alla manutenzione della Rete Viaria cittadina. Per quanto riguarda la viabilità abbiamo iniziato a lavorare da qualche mese sulle strade delle borgate della città sfruttando i due accordi quadri che abbiamo appaltato a dicembre. Gli interventi per adesso sono fermi per sistemare alcune cose e poi riprenderanno a metà fine ottobre, quindi saranno sistemate ancora tantissime strade per la città e ancora interventi previsti su alcune borgate. Per quanto riguarda il decolo urbano abbiamo concluso i lavori sulla parte di San Lazzaro, dobbiamo concludere i lavori ancora sulla zona della villa comunale e penso che inizieranno fra qualche giorno. Un intervento che prevede praticamente tutto l'inermamento di un lato della villa comunale e la sistemazione di alcuni alberi con taglio e reimpianto di nuovi alberi. Abbiamo previsto anche un intervento per quanto riguarda la sostituzione di cestini e panchine sulla parte del centro storico ma che riguarda anche la parte alta della città. Grazie a tutti.